Il posto italiano è un sito realizzato secondo i nuovi standard di posti italiani, quindi senza più vetri blindati, un bancone con uno sportello informatizzato, non anche sapporte da sportello, abbiamo le telecamere a circuito chiuso collegate con l'ottocento di telesorveglianza e un locale safe dove all'interno c'è la cassaforte. Il posto italiano è un'azienda, anche se di Stato, che deve fare degli utili, per cui è un punto di contatto per la popolazione, ma anche una possibilità per i cittadini di investire i propri danari e dove poter ricevere anche consulenza su eventualmente dove mettere i propri soldi, i propri risparmi. Noi siamo aperti lunedì, mercoledì e venerdì, da oggi apriamo l'ufficio postale e all'occorrenza oltre al direttore dell'ufficio abbiamo la possibilità di mandare dei consulenti. Era un impegno che abbiamo promesso già subito dopo il terremoto e che oggi si consolida e si realizza. Devo ringraziare le poste italiane che hanno creduto in questa realizzazione e assieme abbiamo prima discusso il progetto e poi realizzato questo importante servizio per Gavella. È un servizio importante anche perché è nella stessa struttura del centro civico, per cui noi razionalizziamo i servizi e mettiamo assieme due realtà importanti per la qualità della vita della frazione, il servizio postale, ma anche la socialità, la convivialità, la possibilità attraverso il lavoro importante del volontariato, riusciamo in questo modo ad avere tutta una serie di attività che ridanno vita alla frazione. Quindi le due cose sono importanti e oggi vedono realizzazione.